Dal 29 luglio al 25 agosto sono previsti lavori di potenziamento tecnologico e prestazionale dell'infrastruttura sulla linea Sulmona-L'Aquila che determineranno un miglioramento della regolarità del servizio ferroviario e un incremento della capacità di rete con benefici in termini di puntualità a regime e un'ottimizzazione dei tempi di viaggio. Durante i lavori tutti i treni circolanti nella tratta saranno cancellati e il servizio sarà assicurato da corse bus accessibili con regolare biglietto ferroviario. Previste corse bus messe a disposizione da Trenitalia, società capofila del polo passeggeri del gruppo Ferrovia dello Stato, che effettueranno le stesse fermate dei treni cancellati, comprese quelle nei giorni festivi dei borghi di Beffi, Fontecchio e Fagnano. Inoltre per velocizzare i collegamenti da Sulmona-L'Aquila e viceversa ci saranno anche due corse bus dirette. I lavori che si stanno facendo sono di vario tipo, per avere un sistema evoluto di supervisione e controllo della marcia dei treni, previste attività di consolidamento dei portali della galleria Ponte Canale tra Beffi e Molina, altri interventi sul ponte Molina-Raiano e sul ponte Rocca di Fondi-Antrodoco. La linea sarà oggetto di importanti lavori di ammodernamento tecnologico e dal 29 luglio al 25 agosto sarà sospesa la circolazione dei treni, ma tutti i treni saranno sostituiti con autobus che effettuano le stesse fermate dei treni sostituiti, partono di norma dal piazzale antistante delle stazioni oppure dai punti di fermata individuati e specificati negli avvisi alla clientela. I bus mantengono lo stesso orario di partenza dalla stazione di origine, poi quelli che circolano in fascia pendolari invece sono allineati con lo stesso orario di arrivo per agevolare i lavoratori, ma per consentire ai lavoratori anche un miglior viaggio, perché i tempi di percorrenza su strada sono maggiori di quelli su ferro, abbiamo anche programmato due corse dirette, in partenza alle 6 del mattino da Sulmona per l'Aquila e alle 18.05 dall'Aquila per Sulmona, confermata solo a Pratola Superiore, questo agevolerà lo spostamento dei pendolari. L'obiettivo è sempre quello di ridurre e minimizzare il disagio, disagio che però è inevitabile in caso di servizi sostitutivi anziché treno. I lavori di ammodernamento dell'infrastruttura miglioreranno le capacità di questa tratta e ne beneficerà anche la regolarità e la puntualità della circolazione. 24 treni programmati giornalmente saranno sostituiti da 24 bus più due corse aggiuntive non stop, quindi saranno 26 bus circolanti durante il giorno medio feriale. I lavori si svolgono d'estate proprio perché il traffico è minore, se in inverno su questa tratta ogni giorno ci sono circa 610 passeggeri, in estate i passeggeri sono meno di 500, quindi impatta su un numero minore di persone. Questi lavori per 35 milioni di euro vedranno impegnate circa 90 persone tra dipendenti RFI e delle ditte appaltatrici al lavoro suo per civili, armamento e impianti di sicurezza e segnalamento.